Molto giù, gentilmente, vorrei farvi conoscere un caro amico che oggi è qui con me ed è una persona molto molto importante, è Gianni Morandi Ecco Gianni Morandi Ciao ragazzi, allora come andiamo? Vedo che state uniti, il Bologna è sempre nel mio cuore Comunque stiamo uniti, andiamo avanti, non fermiamoci neanche in questo momento E poi che dico, dai, che cosa vogliamo cantare? Cantiamo? La fisarmonica? Sì dai La fisarmonica No scusa, più che fisarmonica La? Più che la fisarmonica, è la fisaranna Perché è sempre lei che mi sta nel portafoglio che la fisarmonica Ciao Gianni, ciao Ciao, avete visto che meraviglia? Certi personaggi sono unici Noi